Signori, sulla mani e sulla voce perché siete invitati tutti allo spettacolo del Gran Circo! Questa sera, questa sera ci sarà, pensate un po' lo spettacolo fantastico del Gran Circo di Roo! Perciò vengono signori sotto il cielo del vendone, questa sera, questa sera per provare un'emozione! Sono sicuro, io sono sicuro che i vostri occhi si spalancheranno di fronte a quello che vedranno, sono sicuro che quasi quasi non ci crederanno! Prometto che non ve ne pentirete, potrete vedere il funambolo che si diverte a fare il giocoliere sulla pune! Questa sera, questa sera sfiderà tutto il vuoto sottostante la forza di gravità! Sono sicuro, io sono sicuro che i vostri occhi si sorprenderanno di fronte a quello che vedranno, ci scommetto che, che quasi quasi non ci crederanno! C'è il cantastorie e il menestrello che mi vuole raccontare di quel punto lontanissimo in cui il cielo sposa terra e mare, dove il vortice del tempo, donati da quelle luminose figlie della notte che chiamiamo stelle! Sto vedendo, ma sicuro vedo che le vostre orecchie non stanno credendo, a quello che io sto dicendo sembra proprio che le vostre orecchie non siano credendo! Non pensiate sia finita, perché ancora al nostro appello manca il suonatore pazzo che delira in stampatello, ma lo giuro, ve lo giuro, io ne ho conosciuti pochi, come lui che con un flauto sanno dettarle già i topi e chi lo sa? Mi chiede adesso chi lo sa, quale pensiero voi state pensando, ma di una cosa son felice perché vedo che curiosità vi sta nascendo dentro! Perciò vengano signori questa sera, questa sera, per trovare l'emozione della fantasia più vera, che non troverete mai in un altro posto, io lo so, perché il treno per i sogni parto solamente qui soppranto dal circostidò! Per finire c'è la storia di quel grande e un po' bambino che si sente nella vita un viaggiatore clandestino e che in ogni nuovo porto in cui porta il proprio cuore se ne sogna sempre un altro verso il quale ripartire! E adesso con tutto questo, io vi ho dato convinzione, presto vengano signori sotto il cielo del tendone, lo spettacolo tra poco avrà inizio perciò avanti, senza spingere che tanto posto c'è per tutti quanti! credo che, io credo proprio che, i vostri occhi meraviglieranno di fronte a tutto quello che tra un po' potranno finalmente vedere anche un circobbino! C'è una poesia in cui si parla di un violinista, girava il mondo, tirava fuori il violino e faceva strage di cuore! Signori, il violinista pazzo!